Un distretto sanitario da 20 anni ospitato al piano terra di un palazzone condominiale. Gli inquilini dello stabile esasperati da furchi e danni, mentre i cittadini temono di perdere l'unico presidio medico della città. Tutto questo accade a Casalnuovo di Napoli, dove l'asla di Via Ravello finisce al centro di un'articolata e complessa protesta popolare. Non tengo la macchina, non tengo il mio marito che è malato, ci ha potuto fare vicino qua. Togliendo questa struttura, secondo me, sarà proprio un caos per i cittadini di Casalnuovo. Non si deve togliere di qua. Se tu fai una visita alla gente anziana, come vedi? Dove andiamo noi che siamo anziani? Non ci sta un pulmo, non ci sta una cosa che ci accompagna. Come facciamo ad andare? Altrettanto legittime però sono le pretese di maggior sicurezza avanzate dai condomini di Via Ravello. 2.000 persone che entrano in un condominio e non trovi più le porte delle finestre, c'è un macello. Il portone all'entrata, l'hanno rotto loro, lo ripariamo. E si romano, lo ripariamo e si romano, cioè ci siamo scocciati. Non è giusto stare l'astro del quadro, l'astro deve avere uno stabile da sé e il sindaco di Casanova non si muove. Una casa prima valeva 200.000 euro, poi vale 50.000 euro la casa nostra. Urgono pertanto nuove e più pacifiche soluzioni, quelle alle quali lavora già da tempo l'amministrazione comunale. Si cercano nuove sedi per il distretto, anche se, al dire il vero, una già pronto all'uso esiste ed è ubicata all'interno del parco commerciale La Piazzetta. Una struttura di oltre 1.000 metri quadri, realizzata proprio per ospitare il distretto su indicazioni tecniche dell'azienda sanitaria, ma dal 2014 mai entrata in funzione perché al centro di un contenzioso tra asl e comune.